www.feyyaz.tv Guarda le donne. È un buon segno sui guarda le donne. Perché dovrebbe? Ho un incontro con un'importante agenzia di spettacolo tra qualche giorno. Ecco cosa succede quando si è alla terza media. Posso parlare con sua madre? Guardi, attualmente è morta. Ma la sua assistente? Cosa ha la mia assistente? Chissà che bei lavoretti che fa quella. È mia moglie. La sua assistente è un buon segno sui guarda le donne. Io ti odio. Perché?